al limite lei si è andata dalla parte di là dove è andata quell'altro c'è un altro canale che mette nel terdoppio non c'è acqua se tu sei bene qui sei della zona d'inverno l'acqua nei canali non ce n'è perché non hanno bisogno di acqua di irrigazione la tirano via si fanno un'altra cosa si è statata così e io ho pensato subito quando sono andato sono andato dalla parte di là che arriva da Visevo che va in un altro canale che porta giù io ho letto sono fatto vedere mia figlia perché io non c'ho la